Musica L'inestimabile banca mondiale stima che il 21% di tutti gli esseri umani vivi al di sotto della linea di povertà estrema Pensate che il 15% della popolazione mondiale soffre di un elevato grado di nutrizione cronica Il 13% non ha accesso all'acqua potabile Il 37% non ha una palazzina, una villetta, una casa Il 30% non ha accesso ai farmaci e il 24% non ha energia eletta Domenica 22 aprile ci troviamo al TAN, Teatro Aria Nord, il teatro gestito dalla cooperativa Libera Scena Ensemble Di Scena, sabato 21 e oggi domenica 22, Vodisca Teatro con un adattamento di Jonathan Swift Una modesta proposta, un adattamento a cura di Rosario Esposito alla Rossa e Gennaro Monforte Ragazzi, allora è una panacea per la crisi economica mondiale questa modesta proposta Sì, siamo partiti dal testo di Jonathan Swift che è molto più duro di quello che noi abbiamo cercato di mettere in scena Abbiamo tentato di modernizzare i versi del 700 di Swift Io vorrei sottolineare una cosa che c'è anche nel libro di Swift Che al di là della proposta macabra di mangiare i bambini Swift dice comunque quella è la sua parte Cioè ha tentato di muovere le acque stagnanti dell'indifferenza È anche un invito a fare la propria parte e dare la propria soluzione Anche se a volte può sembrare stupidissimo macabra come questa proposta È un'opera anche di denuncia Innanzitutto di denuncia Un periodo, quello dell'Irlanda del 700 che somiglia molto ai nostri tempi Quindi bambini mangiati per risollevare anche la crisi economica come abbiamo detto E vengono citati in alcuni momenti anche i bambini che sono costretti a sniffare colla E le bambine costrette a prostituirsi che sono in effetti merce per il turismo sessuale occidentale Sì in realtà come già detto anche Rosario Anche il nostro intento era quello un pochino di smuovere le coscienze Poi abbiamo fatto anche in modo un pochino surreale Abbiamo anche mischiato elementi che fanno molto parte del nostro mondo Cioè la televisione, lo show, tutta la vita è un grande show Un show portato alle estreme conseguenze in cui alla fine i concorrenti Quando vengono eliminati vengono veramente uccisi Quindi diciamo un pochino quella che secondo noi poi è l'idea Verso cui sta anche andando il mondo Verso sempre più estreme conseguenze E poi perdiamo di vista quelli che sono i veri problemi Quindi abbiamo più l'occhio alla televisione A chi vincerà un programma importante Piuttosto che a quelli che sono poi i veri problemi che dovrebbero interessarci Tanto per cambiare il 16% degli adulti è analfabetta E il 14% dei bambini sono utilizzati come soldati Prostitute, schiavi domestiche, scoppi Carpentieri, la povertà grave non è una cosa nuova Nuova è la vastità della disuguaglianza globale Il benessere reale non è più limitato a una piccola elite Una domanda a Edoardo Di Pietro Che qui in scena è stato un ottimo È arrivato anche Giovanni Esposito Giovanni fatti avanti Un applauso per Giovanni Esposito Davvero è stato uno spettacolo di grande intensità E davvero siete bravissimi Io la domanda che loro a questo punto pongo sia a Giovanni che a Rum Un momento di grande riflessione Ma come vi siete uniti? Come vi siete trovati tutti voi con Vodisca Teatro? Beh, come ci siamo uniti? Bella donna, ce lo chiediamo ogni giorno Soprattutto perché ci siamo uniti? No, è un connubio nato da un'amicizia precedente Insomma, ho conosciuto prima Lena e poi tramite Lena Rosario Con Giovanni, insomma, era amico precedentemente E poi, insomma, siamo un gruppo che è un nucleo che si è formato al Teatro Elicantropo E, niente, con un'esperienza precedente Una partecipazione a un concorso molto interessante Che è la Corte della Formica Con, quindi, un corto teatrale Abbiamo intrapreso, insomma, questo percorso E questa è la terza tappa, diciamo, di questo percorso Cioè, il terzo spettacolo, no? Che realizziamo insieme Abbiamo trovato, in un certo modo, anche un modo di approcciare Alle questioni che sono abbastanza spinose Problematiche In una maniera però sempre un po' Almeno, essendo la terza tappa Abbiamo notato che per la terza volta affrontiamo l'argomento in questo modo In una maniera ironica Il più possibile leggera Per quanto poi è complicato affrontare con leggerezza certi argomenti Giovanni Esposito voleva aggiungere qua? No, però appunto Quello che diceva lui Diciamo, è questo la Quello che ci caratterizza, no? Il fatto di affrontare in maniera ironica Divertente, esilarante Certi argomenti Certi tempi Non dire qualcosa che mi ha detto Dici qualcosa Quindi un teatro impegnato Giovani attori Abbiamo qui Luca che purtroppo ha dovuto Fare una brutta parte Quello dell'eliminatore Insomma questo grande fratello Come diceva prima Edoardo Dove tutti gli spettatori hanno partecipato Come telespettatori Insomma davanti alla tv Per eliminare il concorrente Quindi anche un po' di sadismo No in questa Sì sì No ci vuole un po' di sadismo No nel senso che Ecco si citava ad esempio La FAO La Banca Mondiale O le grandi aziende produttive di armi E anche loro sono sadiche Quindi noi lo abbiamo fatto per gioco Loro lo fanno sul serio Quindi basta aprire gli occhi E vedere che Il nostro è finito dopo un'ora e venti Ma ci sono persone che speculano Sul fatto che muoiano tanti bambini E su questi numeri poi ci guadagnano anche Quindi a noi Nello spettacolo, nel testo Ci interessava anche sottolinearlo Poi vabbè nel quiz Io ero un po' il personaggio Che uccideva tutti E mi sporcavo di sangue le mani Mi fate sporcare anche gli altri Chiesa, famiglie e demagogia La repressione della polizia L'effetto sera, la schiuma da barba Poi l'estinzione di coala e panda Apple, McDonald's, industria del porno La peper fiuma, la cultura un corno Le guerre, il profitto e l'autorità Persino il controllo della società Che quei neonati di tutti i colori Puntano a ucciderti Prima che muori Perché il mio status quo non si perda Divorerò quei pezzi di carne Domanda alle due ragazze A Giulio Esposito A Maddalena Stornaiolo Io veramente ho l'onore di essere qui Stasera con voi Perché voi rappresentate Come dice Le nuove leve Ma quelle che non sono nuove Nel senso che sono Precenti Siete degli attori consumati E rappresentate il futuro Ed il presente Del teatro a Napoli Maddalena Ti chiederei di scendere Perché Che non ci arrivo Allora qui in questo testo Questa modesta proposta Risolverebbe anche il problema Dell'emarginazione della donna O no? Questo che tu dicevi Il problema dell'emarginazione della donna In realtà è un tema che Come sai È una cosa che a Vodisca Tocca molto Nel senso che Noi precedentemente A questo spettacolo Abbiamo messo in scena Quando ancora Non conoscevamo Tutti questi fantastici Ragazzi Che poi si sono aggiunti A Vodisca Teatro Croci Rosa Che era proprio un testo Che metteva Diciamo in scena Quella che era Proprio la mercificazione Del corpo Della donna Quindi la donna Utilizzata in televisione Puramente come un oggetto Per lo più sessuale E anche qui Diciamo viene comunque Ovviamente In linea diversa Messa anche in discussione Un po' quella che è La funzione della donna Il mio personaggio È un personaggio Un po' bipolare Se vogliamo dire Nel senso che Ha questa doppia faccia Quando si rivolge al pubblico Quando invece Si rivolge a quelli Che sono i suoi sguatteri I suoi cuochi Per cui diciamo È una cosa Che a me diverte molto Ma comunque È una cosa abbastanza In crescita È uno spettacolo Che ovviamente Porteremo in scena Anche altrove E quindi cercheremo Di modificare delle cose Di migliorarle Di crescere Perché come dicevi Tu siamo delle nuove leve Ma abbiamo ancora Tantissimo da imparare Siamo ancora piccoli Diciamo Per cui C'è tanta strada Da fare ancora Sempre modesta Giulia Allora Tutto sommato Sono più aguzzini Questi chef Questi Questi sguatteri Questi chef Del testo di Swift O è molto più Aguzzino Il mondo E il Insomma Con le sue Ramificazioni Diciamo Con i suoi Interessi economici Nel mondo Questa è una domanda Da Marzullo Praticamente Io penso che non ci sia Tanta differenza Tra quello che abbiamo Mostrato in scena E la realtà Vera Perché in un certo senso Noi abbiamo giocato Come diceva Luca Invece ci sono Queste persone Che speculano Sui bambini O anche sugli adulti Per guadagnare Perché L'unica cosa che interessa Secondo me Oggi come oggi È proprio il profitto Il guadagno Non si guarda più A quelli che sono I sentimenti I rapporti umani Ma è tutto cambiato E quindi In un certo senso La nostra è anche Diciamo una denuncia A tutto questo Basta Non so che dire Cosa si propone Vodisca Teatro Quali sono i prossimi Progetti E insomma Come Insomma Sono i rapporti E come cambieranno Tra Vodisca Teatro E Libera Scena Ensemble I prossimi progetti Sono quelli Di portare Questo spettacolo Ad una rassegna Siamo altre follie A Portici Il 26 maggio E da sottolineare L'importanza Di questo connubio Che si sta Fortificando Sempre di più Tra Vodisca Teatro E Libera Scena Infatti Grazie a questo rapporto Avremo la possibilità Di installare All'interno di questo teatro Se così possiamo Utilizzare questo termine La sede di Vodisca Teatro Noi abbiamo avuto Una grossa mano Da Libera Scena Durante queste due settimane In cui abbiamo provato qui Non capita spesso Di trovare persone disponibili Penso a Ivan Borrelli E a Nico Mucci Che ci hanno dato tantissimo Una mano Per quanto riguarda Le luci L'audio E poi già il fatto Di provare in un teatro Dopo che per anni Aveva provato Tra case Centri sociali E palestre È stata una grossa soddisfazione E quindi tenteremo Nel tempo Di fortificare Questo rapporto Per imparare Soprattutto Uno scambio Tra due generazioni Che si incontrano In un luogo Come vedi A grosse difficoltà Strutturali E noi tenteremo Di dare il nostro contributo Quindi Un appello a tutti Un appello Insomma A prendersi a cuore Di questa situazione Di cui dopo Parleremo con Nico E un appuntamento Che lanciamo A tutti i nostri Insomma Telespettatori Chiamiamoli così Per web Di vedervi Di venirvi a trovare A Portici Il 26 di maggio Poi insomma Ci darai altre informazioni Grazie a tutti Grazie